Nel 2019 in provincia di Salerno sono stati 2.494 gli incidenti, dei quali 48 purtroppo mortali, con 51 morti e 3.961 feriti. I dati sono contenuti in uno studio realizzato dall'ACI che analizza gli oltre 36.000 incidenti stradali avvenuti in Italia nel 2019, dei quali 1.143 mortali con 1.257 decessi e 58.535 feriti avvenuti su circa 55.000 chilometri di strade della rete viaria principale dell'Italia. Sono 28, ritornando alla provincia di Salerno, le strade extraurbane dove lo scorso anno si è registrato almeno un incidente stradale e 7 in quelle in cui è avvenuto un sinistro mortale. Nel 2019 sono avvenuti complessivamente 518 incidenti stradali, tra i quali 13 con esito purtroppo mortale. Le strade con maggior numero di incidenti nel Salernitano sono state la strada statale 18 Tirreni Inferiore con 184 incidenti, la strada statale 19 delle Calabrie con 67 incidenti, la strada statale 67 del Cilento con 35 e via via poi la Cilentana con 34, quella degli Alburni con 32 incidenti, la Malfitana la 163 con 31 incidenti. Tutte strade per le quali è stato chiesto più volte un maggiore controllo e attenzione anche a chi guida, anche perché sono molti più alti i numeri se si considera l'intera rete viaria della provincia di Salerno.